Nuovo appuntamento con SOS Arezzo TV, buona serata, in attesa che torni con noi Beppe Marconi, siamo tornati qui in zona meridiana, una strada in cui siamo già stati, una strada che è chiusa da tempo, mai ufficialmente aperta, che diventa però l'anfratto di rifiuti, l'anfratto di una certa vita ai margini e anche di non solo abbandono di qualunque tipo di materiale ma anche zona dove qualcuno viene anche a drogarsi come dimostrano altre siringhe che già abbiamo intravisto per arrivare qui, intanto vedete che qui diventa un luogo di scarto di materiali edili, plastica, di tutto, guardate questa inciviltà dilagante solo perché è una strada nascosta, tra l'altro adesso è avvolta quasi dalla vegetazione, quindi chiunque può venire qui in modo indisturbato anche a bucarsi, ecco vedete che c'è una bella siringa qui, non solo a bucarsi ma a lasciare poi abbandonati rifiuti appunto di cantieri, rifiuti di qualunque tipo, tanto qui nessuno vede, nessuno sente, chiunque entra, hanno solo messo, dopo lo vedremo, un cartello, quei cartelli che indicano la curva, la direzione per evitare che le macchine entrino direttamente qui ma questo non ha scoraggiato i nemici del decoro che vengono qui a lasciare ogni tipo di rifiuto, è una strada completamente nascosta, una strada di una lottizzazione mai completata e che però si è trasformata in questo luogo davvero di marginalità, qualcosa che non dovrebbe accadere, soprattutto perché è un luogo che ormai è conosciuto, tra l'altro ci sono stati anche nei mesi scorsi dei volontari che sono venuti a ripulirlo e a distanza di pochi mesi siamo appunto a capo un'altra volta. È un luogo conosciuto, le autorità dovrebbero conoscerlo e quindi forse un maggiore controllo perché se poi ci sono le siringhe e significa anche che c'è anche lo spaccio magari qui vicino. Vedete che poi ai lati di questa strada si continuano a trovare materiali di ogni tipo. Eccoci qua, questo è un forno, un forno, un forno microonde, quindi ce n'è di tutti i gusti, bottiglie e ogni tanto sbuca qualche siringa a bordo strada. Qui cosa abbiamo? Altri residui di plastica e non si sa che cosa sia. Un'aspirapolvere grazie ai suggerimenti, è difficile riconoscere. Qui si è dato anche fuoco a qualcosa. Legna, altri materiali vedete di cantieri e vedete che una strada che pur essendo una strada non vecchissima vedete che ci sono già delle spaccature in mezzo ma questo sarebbe il minor problema perché senza che nessuno intervenga diventa appunto questo anfratto di fenomeni di abbandono, di rifiuti e di chissà cos'altro. Altri mattoni via dicendo e poi qui vedete questi sono fazzoletti che per carità ci verranno anche i ragazzi a fare le cose giuste della loro età però c'è vedete la siringa ancora col lago, due siringhe ancora col lago e quindi occorrerebbe che qualcuno intervenga anche a tagliare questa vegetazione che sta ormai interessando la strada anche perché poi sotto la vegetazione si nascondono altri rifiuti. Ecco qua vedete altri rifiuti ancora lì sotto. Tra l'altro ci sono delle case vicine insomma è un peccato anche che i residenti che abitano qui vicino debbano convivere con queste presenze diciamo seminascoste che appunto vengono qui a lasciare di tutto, lasciare rifiuti, siringhe e via dicendo. Insomma è davvero un peccato, noi ci auguriamo che chi di dovere intervenga, vedete che il comune di Arezzo ha messo questi cartelli per evitare che i furgoni e macchine entrino ma avete visto che entrano lo stesso. Questa è la situazione qui in via Duilio Nicchiarelli, pilota scomparso nel 1938 e che volete fare? Temiamo che quei rifiuti si accumuleranno sempre di più. Ci vediamo domani.